Salve a tutti, mi chiamo Shumi Tahir, svolgo il lavoro di mediatrice interculturale per la lingua bangla. In questi mesi stiamo attraversando un momento molto particolare dovuto ad una diffusa epidemia che ci costringe per tutelare la nostra salute a non uscire da casa. Tutto questo impedisce alle persone di incontrarsi. In questo contesto assume ancora più importanza il lavoro di mediatrice interculturale, in quanto l'opera di mediazione permette di supportare le famiglie nel collegamento tecnico alla piattaforma che li permette di seguire le lezioni online, ovvero videoconferenza. Un altro aspetto importante dal punto di vista psicologico non far sentire le famiglie abbandonate a se stesse. Speriamo che questo momento passi presto e possa riprendere l'attività di mediazione con la presenza fisica. Andrà tutto bene. Grazie.